siamo buon giovedì raga benvenuti a tutti dal vostro amichevole nonno della rete alla fumettina di trani in questo nuovo video siamo qui giovedì 23 marzo per farvi vedere tutte le novità molto croccanti come diceva il buon frate dall'altra parte dello schermo ciao bravo ieri è stato un video molto particolare cioè uno degli arrivi molto particolari perché non c'erano i fanco era arrivato solo uno un aeroman molto molto particolare idra però niente fanco e oggi subito ci rifacciamo con un bel attavolato di fanco tra cui alcuni una bomba soprattutto del mondo di un pezzo perché da un pezzo che li aspettavamo e finalmente c'è pure uno dei miei personaggi preferiti detto questo raga oggi vi ricordiamo che dalle 5 si terrà l'evento del torneo della legalità 17 21 tutti posso partecipare tutto gratis passa pochissimo o condividete storie opposto con scritto io partecipo e taggate taggate noi taggate nakodami fatto questo potete venire tranquillamente qui a giocare a vincere e a prendere i premi premi di partecipazione premi finali in più se non avete un deck ci contattate e vediamo noi come risolvere anche questa mancanza tutto a titolo gratuito mentre alle 21 inizierà il torneo di magic visto che magic si paga 6 euro partecipazione torneo standard valido per il campionato qualsiasi cosa scriveteci in privato o in più vabbè noi saremo aperti anche questa domenica ci sarà il torneo di pokemon ed è arrivato anche le buste promo seconda stagione seconda serie iscrivetevi a pokemon iscrivetevi alla lega della fumetteria e potete venire in fumetteria ad acquistare ad acquistare a ricevere un pacchetto omaggio in più se partecipate come concorrente attivi o qui con la lega pokemon giocando e portando più persone potete acquistare e prendere più promo o vincere più promo vincere più bustine e tanto altro e qua è la parte ludica la parte che non è un fumetto sembra solida poi troveremo un sacco di arretrati ok fra qualcosa aggiungere non ci sono più altre iniziative finito va benissimo a me continua il marzo pazzo fino a fine mese sicuramente sempre con le rimanenze perciò potete solo trovare lo scaffale più vuoto quindi accorrete partiamo 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 dal mangiare che tra un po si avvicina pranzo e partiamo da un bello bollente oden perché uno lode si gusta bollente fighissimo personaggio iconico della serie di guano nella saga di guano si nella saga molto 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 figo e ci volevo ma non c'è nessuno dietro no pensavo erano dell'altra collezione avessero messo la cosa ok sono solo loro si sono tre tre oden poi sempre nella saga no rocket perché l'altra volta abbiamo trovato gruut e muova anche rocket e mi mancava fighissimo ci volevo rocket simpaticissimo poi prendiamoci prendiamo il protagonista in che modalità nella modalità di fuoco col pugno di fuoco come ti puoi vedere ah figo è questo che abbiamo venduto adesso ora l'ho venduto quando tu non c'è però il la figure mi rimassero catacuri tra occhio è quella scena lì o no sì 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 che figo oh con il chase che cambia è glow è glow si illumina figo ok però uno scatolo e rimaniamo solo questi due arriviamo tutti tanto di trovo ce ne sta uno mentre di normali ce ne sono tanti altri vero vediamo normal è normal in più vediamo l'altro rufi ok è sempre lui troppo cattivo e non c'è il fuoco si boom il gear 2 salute ah però sempre avanzato com'è eccolo qua no dico sempre avanzato e e ci sa anche il chase che sarà limit edizione gli occhi chiusi e gli occhi chiusi c'è qualcosa che ho fatto e non c'è scritto lo iscriverete! No è perché non è glow! eh perso! non è niente, è solo il bollini. ah no! c'è il pugno e non lo fa vedere il pugno! qui è nero! okay! qua c'è una base! qui non ha la base non è la base è l'Aki c'è il pugno impregnato di Aki qui ha una piccola base mentre qui non ce l'ha questa è da liberare che figo è difficilissimo scappare i bastanti Chase voi se scrivete Chase avete risolto poi abbiamo uno dei più forti dominatori dei mari barba bianca con un cappiello ah no ma è giovane qui è giovane geniale ah questo l'hanno proprio fatto diverso è biondo sai che non ci ho fatto caso a Roger ah no però Roger non si vede mai grande ma già arriva che figo questo è proprio il Chase da avere con Roger l'altro Chase perciò sta dicendo Giovanni avverto eh per forza se l'avete già preso e poi a grandizia richiesta lemma solo in poche copie due eh purtroppo eh eh purtroppo go in the dark questo pure un fuoriserie vediamo che cosa resta sono tutti fuoriserie non ce n'è uno dei collezioni ma nemmeno l'altro vediamo no ma solo per no proprio un 100% e poi abbiamo bellissimo il mio preferito buggy il clown ah sono tutti buggy si no lui non è per lui che cavolo devi fare c'è no niente vabbè credo che sia improponibile anche se lo vuoi fare staccato anche quell'hanno staccato è staccato è attaccato sul mantello ma non è Baboliad no peccato no è attaccato sul mantello comunque è geniale figli belli e peraltro forse facciamo pure o no sì sì tanto no più che altro non danno fastidio sono pochi ok oh pokemon l'abbiamo visto la terminal la stiamo vedendo facciamo un attimo solo il quadrato guarda com'è fortissimo ok ci sono tutti e io non ci arrivo là eh vabbè prendimisi intanto se leggeri pure quella allora della terminal come potete vedere sia la rivista che trovate gratuitamente c'è l'anteprima e ad altre e poi è arrivato il nuovo no il vecchio questo è un attrato per l'amico Sabino bellissimo per l'amico Claudia che salutiamo Sakura e poi la stella dei giant per l'amico Cepi Telli variant ma è meglio poi il numero 2 di Groundwork of Evangelion il film on board poi Willow è il numero 32 di Conan Super Detecti con gli occhiali quale novità no è l'arretrato per l'amico l'arretrato ok ah sì quello che mancava ciao amici ora abbiamo un po' di arretrati della Planet Manga quindi vabbè fighissimo numero 10 di Speck Femiri Jiu Jitsu sempre i soliti e Blue Lock vediamo se cambia qualcosa ovvero ho detto dei titoli One Punch vediamo se c'è il 101 Naruto Naruto numero 26 Demos Leia Star 1977 della Blay Blue Lock Mairo One Punch del 24 l'1 di One Piece il 13 il 27 tutti i top manga come sempre Star Comics vai 101 95 82 no ci proviamo tu ci credi? no 42 20 mi ricordo che i One Piece aumentati 5 20 avevano tutti i fumetti che brutta cosa Witch and the Beast per la festeggiata auguri Anna ed Elden Ring per gli amici che volevano il fumetto non mi ricordo ah sì saluto Sansone grandissimo e Mairo è una cocunno il numero 6 ceppi non ti so parto più Victor vedi che c'era uomo di troppa fede Blue Lock numero 3 Witch and the Beast bella novità anche l'uno è un retrato e Blue Lock poi l'uno di Kai giubbio che finisce fighissimo e poi un po' di Mairo e lì è finito mentre di qua troviamo 20 Century Boys numero 9 oh ceppi è rotto due di Bezzeck e una sì è una di nulla il numero 2 di Insomnia il numero 2 Red Frog stranamente finito Aragane Noco 27 di Bezzeck che cosa l'insomnia del 2 è finito tutti gli altri disponibili altri Air The Ring eh no è l'uno che sto troppo giocando il tofanetto vuoto di Censoman lo vedo lo vedo il 18 di Alaco Can no niente 75 3 18 di One Piece il 2 di Full Color di Freezer e il 5 di Mairo con Todoroki un altro Red Fog però numero One e concludiamo con Boom il ritorno alla crociata o Button Superman Wonder Woman di Gomma il 31 di X Force poi il Best Seller 18 e per l'amico Gianfranco anche Ascesa Button il Cavaliere finito onessamente più belli Fog siamo felici anche per i due begli arretrati che mancavano però sono tutti arretrati sì poi ieri comunque tanta 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 roba come sempre venite qui un sacco di novità un sacco di roba figa è uscito Duranchi l'ultima opera del maestro con il numero uno variant di Berserk come abbiamo visto c'è anche due qua e potrebbero seguire una delle collezioni più importanti giapponesi detto questo spero di aver detto tutti vai voglio leggere solo i commenti ci vediamo al prossimo video bella YU yes iscriviti